l'ultimo quarto di questa partita per gli amici della Twin Sebastiani vi stiamo trasmettendo le immagini della semifinale playoff categoria serie D tra la Sacrata Basket e il Porto Potenza Picena in maglia blu contro teste matte Pesaro in maglia rossa la partita si sta disputando a Porto Potenza Picena presso Palazzetto dello Sport e Palaprincipi vi ricordiamo che il campionato Under 17 eccellenza 2013 e 2014 potete rivederlo tutto sul nostro sito per chi ha giocato contro la Sacrata Basket e Porto Potenza Picena quindi potete scaricare tutte le partite che volete sul nostro sito e tenere come ricordo quindi abbiamo ripreso tutto il campionato Under 17 eccellenza della regione Marche vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito potete rivedere tutte le partite interne dell'Eco del Pidiense Basket di NB Porto San Terpidio e inoltre potete anche rivedere tutte le partite interne che ancora si sta giocando della San Giorgese 2000 Basket oltre a partite minori, categorie minori dove abbiamo ripreso Under 15, 14, 13 quindi vi potete sbizzarrire in tutti i modi per gli amanti del basket sul nostro canale della www.twinsebastiani.it inoltre vi informiamo anche per chi è ancora all'oscuro del nostro sito che tra non molto cambierà la grafica quindi avremo la twinsebastiani.it e la twinsebastiani.com però potete entrare dovete entrare con la twinsebastiani.it perché il COM lo teniamo come eventi precedenti quindi tra non molto cambieremo la grafica e avrete un nuovo twinsebastiani molto più facile per poter cercare anche le vostre partite. Dorniamo alla partita di questa sera attualmente punteggio pari tra le due squadre quasi due minuti di gioco due tiri liberi due canestri 51 Sagrada Basket Porto Potentina 52 teste matte Pesaro 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 è stato aperto un ciclotromo dove tutti possono allenarsi sia con biciclette mountain bike o biciclette da strada, quindi per saperne di più visitate il nostro sito, per passare una bellissima domenica o un bel sabato con la famiglia potete andare al ciclotromo di San Girio che si trova nel comune di Potenza Piccena in provincia di Macerata, aperto da poco, un circuito di circa 1200 metri, in piena campagna in mezzo alla natura per chi vuole respirare aria buona, aria pulita con vista mare, potete allenarvi in questa splendida pista e la colazione incontro diGUO il lavoro di Salone aria inheritance il lavoro di San al rosso di San Grazie a tutti 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 Grazie a tutti